A Tromello vince per la prima volta un sindaco transgender. Adesso si chiama Gianmarco Negri, ma prima si chiamava Maria. Ha cambiato sesso perché lui si è sempre sentito un uomo. Quindi vince le elezioni comunali di questo paesino Tromello in provincia di Pavia. È un quarantenne, Gianmarco Negri, un avvocato candidato con la lista civica Cambiamenti per Tromello. Quindi il neosindaco Negri, che fino a qualche anno fa si chiamava Maria, col 37,5% ha battuto sia il vicesindaco uscente Antonio Pavia, che aveva il 23,16%, sia il leghista Renato Cappa, che ha raccolto il 25,79%.